Carenza di cibi freschi per settimane o mesi e prezzi alle stelle. Queste potrebbero essere le conseguenze per i britannici di un'uscita scomposta dall'Unione Europea. L'allarme arriva dall'industria alimentare, un settore che impiega 450.000 persone in Gran Bretagna. I danni al settore di una Brexit senza accordo batterebbero quelli della crisi della mucca pazza. Proprio in inverno il Regno Unito aumenta le sue importazioni di generi alimentari che arrivano al 60% a novembre. In totale, in caso di una Brexit senza accordo, gli addetti del settore hanno stimato perdite per oltre 100 milioni di euro.